Sessantaseesima edizione del Festival di Sanremo, siamo nella sala stampa Lucio Dalla qui al Palafiori. Tanti gli ospiti, tanti gli artisti e tante anche le polemiche qui a Sanremo, come per esempio la polemica sull'artista inglese e sull'ospite Elton John, dichiarato omosessuale sposato con un bambino proprio nel momento in cui si discute in Senato del DDL e Cirinna sulle unioni civili. Dalla polemica su Elton John anche la polemica su Gabriel Garco, considerato un po' impacciato nella conduzione, ma lui stesso ha dichiarato di non essere un robot, quindi deve leggere un copione e non può imparare tutto a memoria. Ma il Festival non è solo polemiche, è anche musica, dei blu vertigo un po' sottotono, invece Rocco Ant sembra il preferito qui nella sala stampa Lucio Dalla al Palafiori. Tutto procede nel migliore dei modi e si tifa per i propri cantanti preferiti da Sanremo.